Con profondo rammarico, annunciamo la scomparsa di un gigante del cinema italiano, un regista, attore e dirigente dell'industria cinematografica acclamato a livello mondiale. La sua carriera è stata assegnata da opere potenti, tra cui il notevole dramma politico Sacco e Vanzetti, che esplorava il processo e l'esecuzione nel 1927 degli italiani accusati nel Massachusetts. La notizia della sua morte è giunta dalla sua residenza romana, dove si è spento all'età di 93 anni. La sua famiglia ha annunciato il suo passaggio mercoledì, e la notizia è stata amplificata da diverse fonti italiane di alto profilo. Ciò che rende questa notizia ancora più misteriosa è la mancanza di dettagli sulla causa della morte. Tuttavia, si presume che sia avvenuta in modo naturale, senza incidenti o circostanze straordinarie, Nato nel 1930 a Genova, il regista ha iniziato la sua straordinaria carriera mentre era ancora uno studente universitario. Nel 1950 ha ricevuto una grande opportunità quando il regista Carlo De Sica gli ha offerto un ruolo nel film Bannato Aschi, lanciando così la sua carriera nel cinema. Dopo aver trascorso qualche tempo come giornalista per il giornale Italiano O Tempo, Mataldo ha deciso di dedicarsi completamente al cinema. Si è trasferito a Roma nel 1954, un'epoca d'oro per il cinema italiano, dove ha affinato le sue abilità lavorando come assistente per rinomati registi, tra cui Lizzani, Sergio Leone e Francesco Rossi. Il suo percorso lo ha portato infine a diventare un regista di grande talento, e le sue opere hanno lasciato un'impronta indelebile nell'industria cinematografica italiana. La scomparsa di questo straordinario talento rappresenta una perdita profonda per il mondo del cinema italiano e internazionale. La sua eredità di film avvincenti e profondi continuerà a ispirare e influenzare le future generazioni di cineasti.